Insieme a Nicola Zito, Attilio Brucato e Salvatore Montemagno si è seduto Fernando Asaro, sostituto della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, perché Anna Maria Palma, procuratore aggiunto della DDA, è stata bloccata dalla neve caduta sulla 189 e lungo la stessa strada chissà quanta neve sarà passata, scivolata, verso Agrigento, Favara e Porto Empedocle. Tanti fiocchi di cocaina purissima, come i 500 grammi di polvere bianca sequestrati a lui, Giuseppe Alaimo, 47 anni, di Favara, il 21 luglio del 2003, quando l'uomo emigrato in Belgio è stato beccato dalla polizia alla piazzola di sosta del rifornimento di benzina della ESSO al biglio di Racalmuto sulla statale 640. Alaimo era appena sceso da un pullman proveniente da Dusseldorf in Germania. Lo hanno arrestato prima in carcere, poi ai domiciliari, da dove è evaso il 2 luglio del 2004. Da allora di Giuseppe Alaimo nessuna traccia, latitante e riferimento del business di cocaina sventato dalla squadra mobile di Agrigento. Ci vediamo al bistrò, così Alaimo chiamava un bar in Belgio e anche agli amici suoi piaceva la stessa espressione. Ci vediamo al bistrò, ripetevano a Favara, prima dell'appuntamento in un locale notturno del paese. Si parlava e ci si metteva d'accordo, i viaggi dal Belgio alla Sicilia, la droga dei VIP, very important person, persone molto importanti. Anche se tra i consumatori, soprattutto ad Agrigento Città, vi sarebbero stati pochi VIP e tanti insospettabili professionisti, medici, commercianti, panettieri ed elettrauti. Alcuni non solo avrebbero pagato la cocaina, ma avrebbero anche investito sugli acquisti. Ecco, tieni, ti do 2-3 mila euro, ti paghi quella che mi hai dato, quello che ti resta ti serve per comprare altra cocaina, perché l'acqua non deve essere mai poca, perché se scarseggia, la papera non galleggia. Giuseppe Alaimo è ricercato, sono in carcere invece i favaresi Pasquale Airo Farulla, inteso Pasquali Ventu, 44 anni, Angelo Buggea, 45 anni, Santo Castronovo, 46 anni, Giuseppe Farini, 38 anni, Antonio Novara, 30 anni, Antonio Puccio, 35 anni. Poi ancora Francesco Cioffi, inteso Paolo oppure Paolino, 30 anni di Agrigento, e Aurelio Guarraci, 32 anni di Porto Empedocle. Tra gli indagati vi era anche lui, Calogero Palumbo Piccionello, sarebbe stato uno degli interlocutori principali del giro. Poi il 28 maggio del 2004 è stato ucciso a colpi di pistola dentro un bar di Favara. Co-interessi mafiosi, ad esempio, rivela Fernando Asaro, Giuseppe Alaimo avrebbe chiesto ai fratelli Massimino di Agrigento, arrestati l'11 luglio scorso nell'ambito dell'inchiesta antimafia San Calogero, un finanziamento, una quota di partecipazione per uno dei tanti viaggi della cocaina. Eh sì, l'abbiamo un po' sottolineato poc'anzi, dicendo e sottolineando il fatto che da alcune intercettazioni, da alcune attività tecniche emergeva questa forma di tolleranza da parte delle organizzazioni mafiose locali nei confronti di questa associazione. Anzi, in alcuni casi vi era una richiesta quasi di finanziamento, di quota di partecipazione nell'acquisto e poi commercio di sostanze stupefacenti. Il problema della droga è un problema nazionale. È chiaro che anche Agrigento viene toccata come testimonia questa operazione e non solo questa operazione, perché nell'anno scorso abbiamo avuto un'altra operazione a Sciacca, sempre dalla questione di Agrigento e del commissariato Polizia di Sciacca. È un problema e di fatti la squadra mobile ha dato una risposta incisiva toccando proprio un aspetto significativo di un canale di approvvigionamento internazionale dove arrivavano cospicue quantità. E poi, come sottolineava il dottor Brucato, c'è anche l'aspetto da non sottovalutare della collaborazione di alcuni cittadini. Quindi vuol dire che l'attività incessante di attività antimafia poi porta a determinati risultati e maggiore sensibilità da parte della città. Sono in corso attività che riguardano l'identificazione dei fornitori belgi e sono a buon punto grazie alla collaborazione internazionale di Polizia. Poi la sezione antidroga è stata coordinata dal dottor Montemagno che ha dettagli più precisi. Diciamo che tra gli spacciatori di sostanza stupefacente del tipo cocaina viene un elettrauto e un panificatore. Soggetti che investivano i loro risparmi, tra virgolette, in questo acquisto ritenuto redditizio che non lo è perché adesso sono stati assicurati alla giustizia. Tra i consumatori diciamo persone che non sono il classico tossicuripendente disperato. Ma sicuramente grazie alla collaborazione di altri cittadini e al lavoro della Polizia di Stato questo flusso è stato allo Stato quantomeno ridotto, forse interrotto. L'indagine è durata quasi due anni. Il sequestro è quasi stato l'epilogo dell'attività perché già era cominciata da prima. Sicuramente è stata un'indagine molto lunga, molto certosina però i risultati sono poi arrivati.